Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è ci saranno anche Lily James e Willem Defoe nel cast di Finalmente l'Alba, nuovo film del regista italiano Saverio Costanzo. Lo ha scritto Deadline. Del progetto faranno parte anche Rachel Sennotte e Rebecca Antonacci. Il set in Italia, i dettagli della trama non sono ancora stati resi noti tuttavia l'inizio delle riprese è previsto entro il mese di agosto e si svolgeranno in Italia. Per Costanzo si tratta di un ritorno al cinema dopo aver diretto principalmente produzioni televisive, tra cui L'Amica Geniale dal 2014. Gli ultimi lavori delle due star, Lily James è reduce dal successo della serie limitata in onda su Hulu, Pam Tommy, nella quale ha interpretato il ruolo di Pamela Anderson. La serie ha ricevuto 10 candidature agli Emmy, gli Oscar della televisione, tra cui miglior attrice per la James. Tra le produzioni più recenti con Defoe ci sono invece la fiera delle illusioni Nightmare Alley, Nightmare Alley, 2021, per regia di Guillermo del Toro, Spider-Man, No Way Home, 2021, diretto da John Watson e Northman, 2022, diretto da Robert Eggers. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.